Con tre giorni di ritardo parliamo del campionato mondiale Superbike che ha corso ancora una volta ad Aragon per la seconda tappa consecutiva sul circuito del Teruel e dunque tornano i Racing Podcast dopo una settimana di pausa. Per la cronaca, a proposito dei Racing Podcast, sulla Formula 1 non ho parlato se non con un post sulla mia pagina Facebook per il quale vi invito a mettere il mi piace, il link alla pagina Facebook è sempre qui sotto in descrizione. Per quanto riguarda la Formula 1 io il Gran Premio non l'ho visto, diciamo l'ho seguito in Radio Cronica mentre ero via e ne ho discusso live così tra amici visto che l'abbiamo seguito diciamo in Radio Cronica dunque non faccio Racing Podcast su gare che non ho visto interamente e ho comunque spoilerato e di conseguenza parliamo della Superbike che invece ho recuperato. Per quanto riguarda la Formula 1 vi ricordo ha vinto Pierre Gasly, prima vittoria in carriera per il francese secondo la mia McLaren con Carlos Sainz che a momenti la vinceva e terzo Lance Stroll sulla macchina rosa che mi fa smontare il meme della macchina rosa sul podio, maledetto lui. Per il resto parliamo appunto del Motorland di Aragon per la Superbike oggi mentre per la Formula 1 ne parleremo lunedì 14, sarà un Racing Podcast del giorno dopo per quanto riguarda il Mugello e poi martedì invece parleremo della MotoGP che sarà a Misan Adriatico. La Superbike vi dicevo invece io l'ho recuperata e parliamone seppur con tre giorni di ritardo perché ci sono tanti spunti di cui parlare, per esempio la vittoria di gara 1 di Michael Rinaldi italiano-romagnolo del team Ducati Go Eleven, una moto privatissima, una moto indipendente che con un team veramente ridotto, con risorse limitate, c'entra la prima vittoria in carriera al Gran Premio del Teruel, Rinaldi è sempre stato uno dei piloti da battere evidentemente in questo circuito nelle libere aveva di fatto dominato, comunque era nelle prime posizioni gara 1 la domina invece letteralmente e taglia il traguardo per primo dando 7 secondi al campione del mondo Jonathan Ray che finisce sul podio alla seconda posizione e terzo posto in gara 1 per il Ducatista ma non è Scott Redding, parliamo di Chas Davids, Rinaldi è stato evidentemente l'uomo da battere era evidentemente a posto con la moto, il team Go Eleven gli ha fornito una moto incredibile il team Go Eleven non era mai andato oltre una quarta posizione nel campionato mondiale Superbike e con Rinaldi invece c'entra la prima vittoria e non solo perché nelle gare successive il pilota romagnolo andrà evidentemente a coprire tutte le posizioni del podio questo podio è significativo perché Rinaldi è il primo italiano dopo Marco Melandri a vincere nel campionato mondiale Superbike Melandri aveva vinto se non ricordo male a Filippaian comunque nel 2018, quella stagione sportiva quindi sono due anni che non suonava Fatale d'Italia per quanto riguarda il campionato mondiale Superbike e queste postazioni di Rinaldi fanno evidentemente alzare le antenne a molti a detti ai lavori che vorrebbero il pilota romagnolo in sella la Ducati ufficiale, quella evidentemente occupata da chi al momento è terzo sul podio ovvero Chats Davis che evidentemente non è quel Chats Davis dominante o comunque che lottava per i titoli del mondo ma è evidentemente un pilota in fase calante seppur ancora molto valido il pilota gallese c'era anche l'ipotesi di tre moto ufficiali per quanto riguarda la Ducati starevo comunque a vedere, le decisioni evidentemente verranno prese post a Gran Premio di Barcellona che sarà il prossimo appuntamento in questo podio però mancava un protagonista ed è Scott Redding Scott Redding ha avuto un incidente che lo vediamo in questa immagine il pilota con la carena numero 45 è caduto mentre era all'inseguimento di Jonathan Ray che ha fatto come al solito il campionato costante che abbiamo imparato a conoscere Redding perde l'anteriore alla curva 5 e vola per le terre di fatto costringendo il suo campionato a uno stop molto brusco e molto pesante perché ovviamente vi ricordo che questo campionato superbike è molto molto corto e di conseguenza un errore di questo tipo lo paghi veramente veramente tanto Ray dunque si è di fatto liberato in questo modo per un errore del suo diretto avversario e ha proseguito la sua corsa verso un secondo posto che comunque gli ha permesso di allungare infatti al termine di questo round il vincitore è letteralmente Jonathan Ray che allunga a più di una vittoria di distacco su Scott Redding che rischia di perdere qualche speranza mondiale però il pilota inglese comunque ha dimostrato di sapersi rialzare dopo le cadute ed è successo esattamente questo in Super Bowl Race perché dopo appunto l'incidente del giorno prima dove Redding veramente l'ha presa molto sul personale il pilota inglese ha dato veramente spettacolo ha fatto una gara veramente di forza e di cattiveria e ha diciamo conquistato la vittoria ai danni di Jonathan Ray Scott Redding dunque in questo modo ha provato a recuperare subito l'errore seppur la Super Bowl Race ha dato punteggio ridotto rispetto alle gare normali per lui suona God Save the Queen ma ha suonato anche per il cannibale perché ovviamente figuratevi se Jonathan Ray non ha centrato una vittoria in questa competizione e l'ha fatto in gara 2 la gara della domenica pomeriggio dove appunto ha battuto comunque un ottimo Rinaldi che ha fatto tre gare sul podio secondo in gara 2 e terzo in gara 3 il pilota del team Go Eleven Ray invece c'entra la gara numero 96 vinta nella carriera per quello che secondo me è indubbiamente il più forte di sempre e nella Superbike per quanto non con Racola Ducati ma con il team Kawasaki che ha veramente una disposizione economica e non solo molto superiore rispetto a tanti altri team Ray anche con questa vittoria va ad allungare in classifica in questo caso il podio è comprato da Scott Redding che comunque ha un distacco abbastanza significativo e lo andiamo a vedere sono 243 dopo la gara di Aragon 2 i punti del cannibale Jonathan Ray mentre per l'inglese Scott Redding sono 207 vero è ancora un duello a due però la caduta di gara 1 di Scott Redding è evidentemente segno dell'allungo di Jonathan Ray e con solo tre appuntamenti alla fine probabilmente è un allungo decisivo certo anche Jonathan Ray ha avuto uno zero all'inizio della stagione in Australia però come vedete il nord irlandese è molto più costante dell'inglese e in un campionato soprattutto così corto la costanza fa veramente da padrone vediamo appunto le altre posizioni per quanto riguarda i piloti appunto il podio di gara 1 abbiamo detto il podio di Superport Race appunto Redding primo Ray secondo e Rinaldi terzo e gli stessi piloti si contendono le posizioni del podio con Ray primo, Rinaldi secondo e Redding terzo Rinaldi con questi tre podi consecutivi vola al sesto posto in classifica ed è molto vicino a Chad Davies sono 10 punti di distacco tra l'ufficiale gallese e il indipendente italiano in mezzo c'è la Yamaha di Michael van der Mark Yamaha ecco probabilmente è il team ufficiale una delle delusioni di questo Gran Premio del Teruel perché appunto ha fatto posizioni sì in top 10 sì a punti però con due piloti che potevano puntare secondo me al podio non dico in tutte le gare ma quasi fare dalla quinta alla settima posizione è evidentemente una delusione così come è una delusione secondo me Alvaro Bautista che nelle gare lunghe si ritira e fa punti soltanto nella Superport Race finendo quarto Bautista con questa onda era veramente a posto e poteva puntare secondo me al podio quantomeno in gara 1 andiamo a vedere invece gli altri italiani come vedi a segnare i rider del giorno gli altri italiani Rinaldi abbiamo già detto il migliore per distacco Cari Casullo si conferma comunque un pilota importante in questa categoria comunque da punti con costanza il pilota ti viene dalla Superport team Yamaha GRT per lui Marco Melandri delude anche una volta e fa fatica come ho detto nel video quando appunto è stato annunciato il suo ritorno in Superbike fa solo una gara a punti il pilota con la carina numero 33 c'è stato un esordio assoluto in Superbike ed è di quest'uomo Matteo Ferrari che è campione regnante di categoria Moto E ha sostituito Leandro Mercado sulla Ducati del team Motocorsa per questa gara ovviamente e Ferrari comunque fa due buone gare a punti quattordicesimo in entrambe le gare lunghe per il pilota con in questo caso la carina numero 71 non c'era Lorenzo Gabellini invece perché appunto è tornato a correre il campionato italiano hanno considerato che la collaborazione tra il team Mie e Genesio Bevilacqua è finita e dunque il team Mie si è passato soltanto con Takumi Katakashi che comunque ha fatto meglio rispetto alle altre volte se non altro non prendeva N secondi al giro come le gare precedenti Takashi finisce appunti in una gara per quanto riguarda invece il rider del giorno ovviamente alla prima posizione non possiamo che celebrare Michael Rinaldi che appunto è centrato la prima vittoria in carriera in Superbike e anche i primi tre podi della carriera nel round del Terruel e attenzione a lui anche per le prossime gare e chissà per il 2021 come rider del giorno io voglio comunque premiare un altro pilota Honda che però è quest'uomo ovvero Leon Aslam che soprattutto in gara 2 fa una signora prestazione e finisce quarto The Pocket Rocket anche a 36 anni dimostra di essere comunque un pilota col manico seppur non sia nella condizione migliore evidentemente della sua carriera voglio comunque salvare come terzo rider del giorno il pilota Chad Davis che comunque si dimostra su Aragon un pilota competitivo peccato per la caduta in gara 2 però terzo e quinto potevano essere dei buoni usati e infatti lo sono stati per colui che può puntare tranquillamente alla terza posizione di questo campionato mondiale e se non finisce terza secondo me il pilota gallese potrebbe essere considerato probabilmente una delusione passiamo adesso alla Super Sport che ancora una volta vede il solito copione ovvero Andrello Catelli dominanti non ho più parole per un pilota che ha fatto abbastanza fatica l'anno scorso in Moto2 è arrivato in Super Sport esordiente assoluto con il team campione del mondo ha trovato un'amalgama incredibile un dominio clamoroso con queste nove vittorie consecutive supera la striscia di piloti con maggiori vittorie in Super Sport gli altri sono due nomi non a caso il primo Eugene Laverti che corre in Superbike il secondo è Kenneth Sofoglu il re di questa categoria 225 punti il punteggio pieno signori della donna date il titolo a Andrea Locatelli e fatela finita e fate correre gli altri perché le gare della Super Sport evidentemente sono dominate da quest'uomo e di conseguenza forse anche un pelo noiosi perché non sono combattute come magari un tempo era questa categoria fatto sta che appunto anche per disgrazia altrui perché in gara 2 Clusel e De Rosa si fanno fuori a vicenda Locatelli vince e appunto sale a punteggio pieno peraltro incidente di gara 2 di Clusel e De Rosa è colpa di De Rosa sbaglia il punto di frenata in curva 1 e c'entra il povero Jules Clusel che già poverino c'ha le pare per conto suo perché è un pilota molto forte e si ritrova tutte le volte un pilota dominante prima c'era Kennan poi adesso c'è Locatelli con Maiaccia ha perso pure un titolo Clusel insomma pur essendo specialista Clusel non penso abbia un atteggiamento un clima sereno in questo momento e per colpe non sue viene centrato da De Rosa per quanto riguarda invece i podi seconda posizione proprio per Raffaele De Rosa in gara 1 che fa appunto una doppietta italiana in super sport ed è una cosa veramente molto molto bella e terzo appunto Jules Clusel di qui sopra il podi invece di gara 2 lo completa Lucas Maiac che è un pilota comunque che si sta ritrovando pian pianino comunque con Kawasaki e Team Puccetti fa sempre primi 5 terza posizione invece per Isaac Vignales che è evidentemente una sorpresa Yamaha anche per lui Team Calio Racing in questo caso terza posizione per il cugino di Maverick gli altri italiani abbiamo Federico Fulini anche una volta a punti decimo e quattordicesimo Axel Bassani a punti anche lui quattordicesimo e tredicesimo e Kevin Manfredi fa una gara a punti tredicesimo e l'altra purtroppo cade e si ritira in quel caso Bassani e Manfredi però corrono per l'europeo invece è un regular rider Luigi Montella che invece appunto non fa punti fa diciottesimo e poi un ha ritirato in gara due parentesi anche femminile Maria Herrera che ancora una volta correva con in questo caso una wildcard due dici settimi di posti per la pilota spagnola passiamo invece alla ultima categoria che è la Supersport 300 una Supersport 300 che ha visto un vincitore nella gara 1 che è Victor Rodriguez ma in realtà non è Victor Rodriguez perché appunto il pilota spagnolo la prima vittoria in carriera è stato squalificato per un problema tecnico alla sua moto ed è una storia incredibile quella di Rodriguez perché lui corre con il team 2 Armored Sport il team 2 Armored Sport è un team italiano che appunto è stato inizialmente squalificato dal mondiale perché non aveva rispettato a pieno l'enorme covid è stato riammesso alla gara scorsa di Aragon e dopo due gare aveva trovato questo pilota Victor Rodriguez che ha vinto in volata su Bahattin Sofoglu e Jeffrey Buis in pista era una storia veramente incredibile il team da escluso a vincitore tra l'altro erano i primi punti in carriera la prima vittoria in carriera per Victor Rodriguez e invece per questo problema non è stato appunto convalidato alla vittoria ma è stato squalificato dunque non suona la marcia reale ma suona l'inno nazionale turco perché vince appunto Bahattin Sofoglu che è il nipote di quel Kenan Sofoglu che ha dominato in lungo e in largo la Super Sport degli anni d'oro suona per lui l'inno turco che in turco significa la marcia dell'indipendenza seconda posizione per Jeffrey Buis l'olandese terzo per Scott Deru altro olandese grande esperto e veterano di questa categoria Jeffrey Buis poi va a vincere la gara 2 e allunga in testa al mondiale a 131 punti nel campionato Super Sport e questo anche questo potrebbe essere l'allungo decisivo seconda posizione sempre per Scott Deru e terzo per Bahattin Sofoglu evidentemente si sono giocati il podio loro 3 nella gara 2 anche se in questo momento la Super Sport 300 è molto più equilibrata e fino ad Anna Carretto che è quinta sono ancora tutti in gioco a 6 gare dalla fine a 3 round completi dalla fine per Jeffrey Buis ha suonato Hetfield Helmos in nazionale olandese e su questo concludiamo il nostro recent podcast seppur con 3 giorni dopo fatemi sapere dunque cosa ne pensate soprattutto nel campionato Superbike che ovviamente è la categoria regina delle derivate dalla serie categoria regina e le altre torneranno a Barcellona 19 e 20 settembre il saluto da parte di Matthew Torger ci vediamo presto a un prossimo video a un prossimo video a un prossimo video